Quindicesimo calcio d'angolo, va Tajani qui sulla zona destra, guardiamo andare di rigore Parte il calcio d'angolo di sinistro Tuono, gol, nooo, 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 chi è stato? Mamma mia, mamma mia Ancora Tajani, Tajani perde la palla, la riconquista, mamma mia A botta sicura il nostro giocatore, cross Gol, vai Doc Su cross italiani, quindicesimo, bravo, bravo voi Doc